Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare ricorda di mettere like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Maria De Filippi sta già lavorando alla prossima edizione di Amici, promettendo novità che lasceranno il pubblico senza parole. La finale recente ha visto la vittoria di Sara Toscano, allieva di Lorella Cuccarini. Nonostante il successo continuo, Maria sta pensando a cambiamenti significativi. Tra le possibili novità, l'arrivo di Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo, potrebbe portare una ventata di freschezza al programma. Si vocifera di un nuovo spin-off di Amici che potrebbe essere un varietà musicale, coinvolgendo sia partecipanti del talent show che volti nuovi. Silvia Toffanin sarebbe la presentatrice ideale per questo progetto. Maria De Filippi non sarà alla conduzione dello spin-off, impegnata con uomini e donne, c'è posta per te e tu si che Vales. Inoltre, produce Temptation Island, garantendosi un ruolo di primo piano in Mediaset. Lo spin-off potrebbe rappresentare una soluzione ideale in un periodo in cui i reality show sono in difficoltà. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali e bisognerà attendere per ulteriori dettagli. Silvia Toffanin sembra la scelta perfetta per condurre questo tipo di programma, con potenziali duetti tra i partecipanti che potrebbero stupire il pubblico. Maggiori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane. Anche con il suo nuovo impegno, Toffanin continuerà a condurre Verissimo. Le sue capacità di presentatrice e il suo carisma potrebbero portare un nuovo successo al già popolare Amici. Il pubblico di Amici può aspettarsi un autunno ricco di sorprese. Maria De Filippi sembra intenzionata a innovare e mantenere alto l'interesse, mescolando tradizione e novità. Rimaniamo in attesa di conferme ufficiali, ma le premesse lasciano ben sperare. Con Silvia Toffanin alla guida dello spin-off, Amici potrebbe vivere una nuova entusiasmante fase.